Nuovo incarico per Cristina Lionti, neopresidente del collegio comunale di Acicatena. Sì, buongiorno. Allora, io innanzitutto volevo dire che mi sto accostando per la prima volta a un progetto politico e scegliendo Scelta Giovane perché è una nuova realtà, che vuole cambiare la politica per una politica più sana e incontaminata. Io insieme ad altri coordinatori e presidenti del Movimento Scelta Giovane come Daniele Capuana, Davide Tutino e Rosario Laspina vogliamo guardare al territorio, ai problemi di ogni singolo cittadino e soprattutto dei giovani perché i giovani rappresentano il nostro futuro. Vogliamo promuovere delle iniziative per cui trovare nuovi posti di lavoro, per meritocrazia soprattutto, avvicinarci ai problemi dei singoli comuni, diffondere la formazione, l'istruzione, la cultura e tutte anche quelle iniziative atte alla difesa dei diritti ambientali, umani e sociali. A proposito di iniziative, stasera è prevista una manifestazione importante per Scelta Giovane? Sì, infatti stasera ci sarà la prima festa provinciale di Scelta Giovane che si terrà presso il pub Exit di Catania in via Mancini numero 19. Ci sarà un concerto con musica dal vivo by Frida e quindi vi aspettiamo.